Sì, pronto? Ah, non ti piace questa musica che ho messo? Va bene, porto pazienza un attimo, tra poco la tolgo, ciao! Questo oggetto è un vecchio telefono. Ormai non si usa più. Però, man mano che entro nelle case, ogni tanto vedo che ancora molti hanno telefoni come questo. Si comprano e tutto sommato in mezzo a telefoni molto più moderni, con i numeri memorizzati, con tutte le memorie, con tutte le cose. Fanno bella mostra di sé anche oggetti come questo, che hanno un'altra presenza, hanno un sapore antico, ma si intonano bene, anche con gli ambienti moderni, si intonano bene. Magari non li usiamo, ma adesso li abbiamo come oggetti. Mi fanno nostalgia e allora li raccolgo, li raccolgo quando li trovo. Soprattutto questi neri imbacchilite, che pesano, hanno un loro peso, hanno una loro consistenza, hanno un disco combinatore che ha un suo rumore, che ha una sua velocità. E poi sono oggetti che servono soltanto a fare quello. Uno, con un telefono così, non può che telefonare. Non gli viene in mente di andare per la strada a fare le fotografie. E non ne viene in mente neanche di mettersi alla cornetta ad ascoltare la canzone del suo divo preferito. meno ancora gli viene in mente di guardarsi un film in dvx, insomma. No, con una cosa così si può solo telefonare. Ed è bello pensare che c'è un oggetto che serve solo per quello, che quando si adopera quell'oggetto si può fare quello. Si può pensare di telefonare e basta. E magari finchè si telefona si pensa soltanto a quello che si dice per telefono. Si sta ad ascoltare quello che l'altro ti dice. Non fai altre cose, non fai due cose in una, tre cose in una. Non la fai tu e non la fai neanche il tuo oggetto. Perché questo oggetto sa fare solo una cosa. E ormai ci siamo abituati ad avere oggetti sempre più piccoli, sempre più portatili che fanno sempre più cose. E allora con il telefonino si fotografa, si mandano messaggini, si scrive, si ricevono, si mandano le telefonate, si perselezionano i numeri, si guardano le fotografie, si leggono i messaggi, si guardano magari i film, e poi ci sono gli iPod, ci sono tutte queste cose qua. E si legge anche, magari si leggono gli ebook su quello schermino piccolo, piccolo, che è del telefonino. E allora, giustamente, per esempio, vedevo ieri sera un video qui su YouTube fatto da due ragazzi, i quali avevano anche acquistato l'iPod e l'Apple e si chiedevano, ma a che cavolo serve questo oggetto grande che noi non possiamo portarci dietro, perché siamo abituati ad avere un oggettino piccolo e ci teniamo in tasca, ce lo teniamo dappertutto, ascoltiamo, mettiamo le cuffiette, siamo in mezzo agli altri, ma siamo soli. E con questo oggettino piccolo facciamo tutto, ma anche leggiamo, come leggiamo i messaggini, ci leggiamo anche i libri. E poi facevano vedere questo oggetto più grande, già leggero, sono visto i iPod dell'Apple, in realtà, a cosa serve? Noi non riusciamo a portarcelo dietro, allora magari, qui avevano una battuta originale, magari Apple chissà l'ha fatto apposta perché in modo che ce lo rubino. E allora, invece che vendolo una volta, ce lo vende due volte, insomma. E un altro ragazzino, sì, anche questo, diceva, ma in realtà, insomma, io... Forse l'avranno fatto per i vecchi, questo grande, l'avranno fatto per i vecchi, ma a me non serve, perché io leggo anche dal monitor di quelli piccoli. aveva ragione, a modo suo, perché noi vecchi siamo tanti. E quindi si può pensare... si può pensare che noi vecchi, che abbiamo costantemente portato a di mano gli occhiali, riusciamo a leggere, magari i miserabili, magari Dostoevsky, l'idiote, sul display grande così, con le paroline grande così, e ci troviamo gusto? No, non è pensabile. Io ho ancora la nostalgia degli oggetti che servono a una sola funzione. Anche se capisco che è retro, che non è più possibile, ma la nostalgia ce l'ho lo stesso. E allora, se l'Apple ha fatto un iPod grande così, e forse non è quello che io mi aspetto, ma io mi aspetto un iPod da qualcuno che mi permetta di leggere e-book, che possibilmente non sia retroilluminato, che mi permetta di ingrandire le lettere a sufficienza, quello che mi basta per leggere, che sia facile di lettura, che ci siano ben contrastate le lettere, insomma, e che mi permetta di leggere i libri, i-book, e che quindi di conseguenza si facciano anche più i-book che riguardano la letteratura moderna. Perché avere diecimila libri in casa e avere libri che ogni volta che lo cerchi non è possibile, e averli diecimila libri in una chiavetta grande così, da poter infilare sull'e-book e da poter avere lì, a disposizione, a scelta immediata, la possibilità di leggere quello che in quel momento ti va di leggere e magari quella pagina di quel libro, perché a volte sei costretto a comprarti un libro per leggere una pagina. Beh, insomma, io lo trovo rivoluzionale la cosa. E a me basterebbe solo quello, non mi interessa che faccia le fotografie, io non voglio andare in giro a fare le fotografie, voglio andare in giro con la vecchia macchina fotografica a fare le fotografie e anche se vado in giro a fare le riprese vorrei anche poter andare in giro con una cinepresa che faccia solo le riprese e se vado in giro con un apparecchio per ascoltare musica solo per ascoltare musica. Ma devo decidere io cosa voglio fare quando vado in giro, non avere in mano tutta una serie di funzioni che poi non so adoperare e non so cosa farmene. ma capisco che i giovani siano così però noi non siamo così e per me sarebbe già rivoluzionale io lo sto aspettando allora ragazzi, io sono vecchio lo sto aspettando questo lettore questo lettore che mi permette di leggere senza stancarmi troppo gli occhi di vedere lettere e ingrandirle quanto mi pare e di leggere soltanto i book che che sia leggero che me lo possa tenere a letto che lo possa tenere in poltrone che non abbia bisogno di una lampada per essere illuminato e che mi contenga tutti i libri e che ci sia una produzione poi di libri anche perché poi questi libri sono facili da prendere no, non devi più andare in libreria è una rivoluzione al limite tu puoi scrivere un libro lo metti in internet, hai file e uno se lo prende e se lo legge io credo che anche solo questo potrebbe essere l'inizio di un cambiamento epocale non ci immaginiamo neanche quanto quanto questo potrà cambiarci la vita ma proviamo a pensarci mi piacerebbe dire altre cose ma il tempo è finito ciao